La famiglia è lì, no ti giuro, io non lo so com'è, in che condizioni è, io non ho un'idea di vivere, io se trovo, ma io, io, non c'è modo da attraversare, si porta via, sembra stia smettendo di piove da casa, e la briglia è un pochino più alta, immaginatevi, no, via, no, è un, non lo so. La famiglia è lì, no, via, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.